bene trovati amici ma soprattutto amiche dello spallino puntocom in deplorevole ritardo rispetto ai nostri standard ma c'erano cause di forza maggiore che ce l'ho impedito di iniziare in orario questa diretta la numero 24 della nostra stagione c'è Leo Biscuola ciao Leo ciao a tutti per Martina Poletti che ha chiesto di essere dispensata per un mercoledì per ragioni non meglio precisate ma diciamo che ci siamo comunque organizzati non solo per rimpiazzare Martina Poletti perché questo sarebbe anche offensivo da dire ma per avere una voce in più che ci aiuti a inquadrare la serata di ieri sera perché caro bella serata ieri sera la significativa serata ieri sera perché io ero lo stadio tu no ma chi abbiamo deciso di coinvolgere stasera per darci una mano non solo era lo stadio ma è anche andato in sala stampa e si è trovato faccia a faccia con Salvatore Esposito che mi sento di dire è il principale argomento di conversazione delle ultime 24 ore quindi senza ulteriore indugio aggiungo questa diretta Davide Suatin ciao Davide dalle tenebre dalle tenebre come dalle tenebre sì esatto sempre mi piace così appare dalle tenebre nel frattempo prima di andare su sulle questioni più impellenti ciao Mauro ciao Stefano ciao Sole ciao Carlo ciao Simone c'è andata bene dice Mauro sì alla grande mi stava preoccupando dice Elena Fregnani no non ti preoccupare ci siamo siamo vivi anche se io ho un gran raffreddore probabilmente si sente Davide Matteo Alberto Claudio madonna quanta gente ciao Sara abbiamo il nostro pubblico fedelissimo veramente sono commuventi ti saluto tutti perché veramente ci sono tozzine di commenti iniziate sempre più tardi principessa dice Buzzo hai ragione però Buzzo devi considerare che uno dovevo finire di revisionare il pezzo che potete leggere il suo spallino firmato da Cristiano Mazzoni perché ho avuto una giornata piuttosto piena e sono uscito a farlo solo verso sera e poi ho ricevuto un invito da un collega di Cosenza che stimo e quindi ho voluto presenziare la sua diretta prima di questa e le cose si sono un po' sovrapposte vabbè comunque la realtà è che li stai abituando troppo bene questa è una battuta che ha fatto anche Martina Poletti dicendo ho abituato tutti troppo bene perché ci sono ogni mercoledì in realtà stasera non c'è allora però partiamo dalla fine perché questo è l'argomento di conversazione e direi anche l'argomento più commentato delle ultime 24 ore ho già letto diversi commenti tra l'altro che lo prendono in campo sì sì vabbè ma ne arriveranno altri allora Davide tu sei andato giù in sala stampa intanto forniamo un po' di contesto perché potrei sbagliarmi scusami eh ma potrei sbagliarmi ma era la prima volta in stagione in cui ci veniva permesso di parlare con i giocatori no era successo anche all'inizio stagione no 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 era già successo però con Bicari mi pare o con un paio di altri giocatori vabbè comunque diciamo che dopo un po' di tempo abbiamo ripreso a poter fare domande ai giocatori perché di noi abbiamo preso con la realtà nuovamente era l'ufficio stampa che produceva il video infatti c'è Beatrice Bergamini che chiede giornata piena da ieri sera non so se c'era anche la Bea ieri in sala stampa c'era anche la Bea era una delle fortunate abbiamo ampiamente commentato a caldo però Davide tu eri giù in sala stampa io no perché sono rimasto in tribuna stampa a lavorare dici come sono andate le cose perché un conto è leggere le dichiarazioni di Esposito un conto è averle sentite e aver visto anche la sua espressione no allora io partirei soprattutto dal gol del 2 a 2 perché quando lui segna ormai sotto gli occhi di tutti ci sono immagini lui corre verso la ovest e fa gesto di dire non vi sento non vi sento con le mani dietro le orecchie quindi già lì se vogliamo ora non per tirare la croce mettere in croce l'ufficio stampa però dopo che un giocatore già la situazione è quella che è un giocatore si rivolge così verso la cura probabilmente era meglio detto anche tra di voi parlando così l'abbiamo detto esatto far andare qualcuno che avesse un po' più di esperienza un po' più di calma che sapesse gestire meglio il momento che comunque era abbastanza teso si è visto anche a fine partita il parapiglia con Tacopina che va da Bisoli durante la partita cartellini rossi quindi comunque è stata una partita giocata a tutti gli effetti dal punto di vista sia agonistico che dal punto di vista anche mentale Venturato viene in conferenza stampa fa la conferenza stampa a cui ci ha abituato in questi mesi Tacopina che l'ha presa bene esattamente era abbastanza era abbastanza adirato con Bisoli ti prego ora metti la fase di Tacopina mentre sentiamo Davide ci spieghi ci spieghi di esposito tra l'altro a Cosenza scusa Davide se ti ho interrotto tra l'altro a Cosenza sono convinti o riferiscono che Tacopina molto molto infuriato abbia ripetutamente urlato terroni terroni e quelli della panchiera di Cosenza mi hanno chiesto tu ne sai qualcosa non lo so però troverei strano anche quelle origini che ha ma tra l'altro esatto comunque anche quelle origini però mi ha fatto ridere che da Cosenza ci hanno convinti che ciò sia avvenuto e mi hanno chiesto se è vero o no io ho detto non lo so non ho la minima idea anche perché con la confusione che c'era vai te a distinguere la voce di Tacopina in mezzo a quel parale io penso di mettermela come sfondo questa immagine ragazzi comunque l'ho presa molto larga solo per dirvi che comunque Venturato fa la sua conferenza stampa termina con una mia domanda in cui gli chiedo se effettivamente si sente si sente di in qualche modo diciamo prendersi questa salvezza virtualmente quindi non matematicamente perché la matematica non c'era però virtualmente due scontri diretti la spalla è uscita in battuta era quello che ci sospicava almeno lui mi dice che i punti da fare ce ne sono ancora che comunque molto umilmente diciamo fa capire che la strada comunque è ancora lunga da percorrere no? dai pur ed è proprio quello cioè il se vogliamo il modo in cui ha parlato Venturato poi ha finito per stridere con le dichiarazioni invece di un esposito che è arrivato e che giustamente rivendicava il punto come il suo perché Benazzi stesso Alberto Benazzi di Radio Dolce Vita gli fa la prima domanda Salvatore di nome di fatto perché appunto questo punto se l'è se l'è preso lui tutto andava normalmente quando quando ha cominciato a dire appunto che la sua situazione è abbastanza sta vivendo un momento abbastanza difficile perché comunque quando gioca chiuso da Viviani quando è disponibile Viviani ovviamente anche alla luce delle prestazioni che fa gli prende il posto che rispetto allo scorso anno questo lo dirà poi più avanti gioca di meno e poi dice appunto la frase incriminata che forse vi ho abituato fin troppo bene ripeto i tifosi poi fa un attimo una pausa forse per rimettere insieme un po' i concetti e dice anche voi giornalisti perché vi leggo le vostre pagelle leggo quello che scrivete e lì è sceso un po' il gelo più che altro perché comunque dal mio punto di vista ha perso un'occasione per godersi una serata cioè lui senza questa esternazione qui sarebbe uscito sui giornali come quello appunto che l'ha risolta l'ha risolta esatto e invece questo modo qua non ha perso un'occasione per far parlare male di sé perché alla fine comunque il giorno dopo non è a grazie Esposito che ci ha salvato ma Esposito come si permette comunque di dire quello che ha detto quindi poi la conferenza è durata un minuto e mezzo perché a proposito di Beatrice e di Alessio loro dovevano dovevano scrivere quindi quei giornali che andavano in stampa subito e di conseguenza loro non hanno fatto domande è toccato a me io gli ho detto guarda no grazie siamo a posto così ma l'ho proprio rifiutato io anche se ma non perché non avessi domande da fargli perché è proprio secondo me stato un comportamento inaccettabile da quel punto di vista lui se n'è alzato e purtroppo mancano le immagini video perché la SPAL ha fatto una sorta di censura ha fatto tutte le conferenze stampa post partita vengono caricate su YouTube tra l'altro su YouTube sul sito della SPAL c'è scritto le conferenze stampa post partita quindi penso che sia qualcosa di già preformattato se vogliamo di già precotto che loro mettono su però il problema è che a questo giro è la conferenza stampa post partita che è solo quella di Venturato mentre quella di Esposito non ce n'è traccia tra l'altro non l'ha nemmeno registrata mi negati questo di l'ufficio stampa disse così purtroppo la gente non può rendersi conto lo legge immediato da noi però come dicevi tu prima è un conto è leggere dei giornali è un conto vedere lasciatemi passare il termine se vogliamo anche un po' la sbruffonaggine con cui la detta è la mancata di rispetto non tanto nei miei confronti ma anche nei confronti di gente più anziana penso a Giorgio Bolognesi che comunque sulle spalle di partite ne ha viste e lo stesso Giorgio Bolognesi di Telestense gli ha risposto ti sei fatto la domanda ti sei anche risposto da solo guarda Davide secondo me lì è stata la goccia scusami Leo chiudo siamo andati a boccare il bacio e da lì in poi guarda ho detto io l'iniezione di fare domande non ne ho e per me come è arrivato se ne va se ne è anche andato Davide se ne è andato anche Davide in tutto questo io tra l'altro orla ho avuto la insomma il privilegio si è andato in freeze qualche secondo dove mi ero freeze dove mi ero freeze no avevi finito il discorso avevi finito si era sentito si si no io dicevo che effettivamente io avrei voluto vedere il video della perché comunque la la mimica facciale è una componente della comunicazione però anche solo avendo ricevuto l'audio subito in pochi istanti dopo che è stata fatta questa conferenza stampa io sono rimasto veramente senza parole non tanto per quello che ha detto perché ci sta che lui possa esprimere il suo il suo momento negativo insomma quello che lui pensa anche perché d'altronde ci lamentiamo sempre delle interviste in cui dicono tutte le stesse robe ci sta che sia una persona un giocatore possa esprimersi e dire quello che pensa ma se io penso a Giorgio Bolognesi che è una delle persone più come dire più buone ha fatto una domanda assolutamente non tendenziosa e si sente dare una risposta del genere io sono scioccato per quello e in più se penso a Esposito che quest'anno di certo non ha brillato ma quindi dico ma come come può saltarti per la testa dopo un campionato perché ormai mancano cinque partite quindi ormai il campionato è quello anche se fa venti gol in rovesciata da qua fino alla fine come può saltarti in testa di dare una risposta del genere forse vi ho abituato troppo bene ma stiamo scherzando allora un paio di cose credo che la SPAL intesa come organizzazione dopo quell'intervista sia andata in modalità in America chiamano damage control cioè controllo dei danni nel senso che se mettiamo il video qua ci torna un boomerang sulla faccia che già è consistente visto quello che ha detto e come l'ha detto hanno deciso di limitare i danni per quanto possibile non mi sento di dargli torto perché oggettivamente si sarebbe aggiunto solo altro motivo di come dire di polemica insomma vabbè comunque diciamo che è stata è stata un'uscita infelice di Esposito perché posso capire il suo risentimento nei confronti di una piazza che probabilmente non lo apprezza a sufficienza per quello che è in grado di dare attenzione perché forse forse e poi qua voglio portare senza voler passare la serata a passare di Esposito ma forse noi siamo i primi ad aspettarci troppo da Esposito rispetto a quello che effettivamente può offrire ma questo teniamo da parte un secondo questo tema ne parliamo dopo un altro aspetto però è che i voti visto che lui fa riferimento alle pagelle i voti spesso magari sono ingenerosi spesso magari sono imprecisi spesso magari sono frutti di aberrazioni intesi come proprio non aberrazioni nel senso stretto del termine ma proprio di distorsioni di ciò che vediamo in campo però io voglio citare qualche numero sapete che io sono fissato quei numeri e allora l'anno scorso la media di Esposito nel girone di andata e stiamo parlando di pagelle di tutta la stampa sportiva quelle che pubblichiamo ogni giorno dopo la partita quindi con Gazzetta Corriere Lo Spallino Estense Tre Estense tutti quanti insomma l'anno scorso Esposito ha chiuso il girone di andata con 6,22 di media se non ricordo male era uno di quelli che ce l'aveva più alta al termine del girone d'andata dell'anno scorso forse solo Valotti andava da sopra adesso non ricordo bene anzi no Valotti era sotto penso quindi è esposito uno dei migliori del girone d'andata nel girone di ritorno la sua media scende a 5,83 quindi praticamente di mezzo punto complessivo quest'anno nel girone d'andata Esposito ha una media di 5,85 quindi un po' sotto il 6 nel ritorno è 5,54 quindi sopra il quarto di punto quindi io vedo una tendenza già di partenza nel fatto che Esposito nel giro di ritorno per qualche motivo fa meno bene nel giro d'andata quando dice vi ho sbiduato troppo bene di cosa parla? del fatto che l'anno scorso ha fatto 3,4,5 gol su punizione o 5 gol complessivi sarebbe stato bello capire a cosa si riferisce perché anzi a cosa si riferiva scusate perché io non l'ho ben compreso vorrei veramente entrare nella sua testa e capire capire che tipo di metro di giudizio non solo lui dà a se stesso ma che tipo di metro di giudizio si aspetta dal pubblico e dalla stampa secondo me le cose sono tre principalmente una quella vi è abituato troppo bene che secondo me stride anche con l'età che lui ha perché comunque è un ragazzo e sembra quasi che quello vi è abituato troppo bene sia appunto vorrei un commento da zero umiltà per quel che riguarda appunto il fatto che davanti a sé comunque ha una stagione ha una una carriera e di conseguenza non ci si può basare solo su quello che ha fatto la stagione e poi il resto è stop quindi secondo me è questo poi la seconda diciamo la seconda la seconda cosa che volevo dire era che lui che il dente avvelenato con la stampa ce l'abbia è una cosa sua legittima no ci può stare però poi dopo sono i modi sono i modi con cui esternarlo perché diceva ragazzi sono contento per il gol fatto per il punto per la squadra però mi dispiace è una liberazione perché mi dispiace che da tanto tempo leggo che sul mio nome vengono messe i voti che appunto non rispecchiano la realtà finito qua senza spociare nella sfida perché è stata una sfida poi se andiamo a vedere in fin dei conti cioè comunque è stato un suo sfidare lui sperava in uno scambio probabilmente che poi alla fine non c'è stato quindi secondo me è quello il limite è una sua polemica legittima o è al mondo però c'erano modi e modi per esternarlo poi se guardiamo quello che ha reso lo scorso anno e quest'anno ne parlavamo anche con Leo diverse barrile fa prima di segnare un corso punizione quest'anno ne ha tirate quante Leo? Sì sì diverse ma è quello che a me fa che io non riesco a capacitarmi cioè una frase del genere l'avesse detta Viviani ok dopo che gli è stato detto di tutto negli ultimi tre anni e quest'anno si è presentato tirato a lucido dicendo oh mi avete detto di tutto mi avete massacrato dicendo che non ero più un giocatore di calcio io è un anno che sto facendo se non sono sempre migliore in campo poco ci manca vabbè ieri non ha fatto bene però comunque quando manca si sente ma non stava neanche bene ma non stava neanche bene l'avesse detta Viviani niente da dire cioè nel senso hai ragione cosa possiamo dire stai facendo un campionato straordinario cioè ha fatto un gol su punizione la penultima partita che è una delle punizioni più belle che io abbia mai visto cosa possiamo dire ma è sposito cioè mi sono segnato le medie che ha detto Orla prima in due anni 6-22 5-83 5-85 5-54 ma ma di cosa stiamo parlando e sì che la spalla era uno scorso poi le medie voto non sono sempre un indicatore accurato per carità però voglio dire hai tirato in ballo Viviani Viviani che ci ha recentemente sbloccati da Instagram dopo 5 anni e al momento della mia richiesta di intervista di ormai tre settimane fa avrebbe potuto bellamente mandarmi a fare in culo e invece non l'ha fatto anzi si è seduto al tavolo con me e da persone civili abbiamo parlato molto tranquillamente abbiamo chiarito le nostre divergenze e lui me l'ha detto mi massacravate il primo anno di Serie A e a me non stava bene però poi mi ha detto ho imparato a farmi scivolare addosso sta cosa è vero che è sposito e scusa si è sposito a 8 anni meno di Viviani quindi forse ci arriverà tra un paio d'anni tra 3 non lo so quando ci arriverà a questo discorso non tutti sono uguali nel gestire le pubbliche relazioni non tutti sono in grado di come dire sorvolare sui giudizi anche quando sono imprecisi perché anche noi della stampa o sbagliamo a volte a interpretare certe cose anzi succede abbastanza frequentemente personalmente non ho problemi ad ammetterlo quando succede sono stato il primo ad ammetterlo con Viviani perché gli ho detto io non credevo che tu potessi tornare un giocatore di questo livello invece c'è riuscito quindi mi ha tappato la bocca ma detto questo esposito blocca lì ci sarà Guido ma probabilmente l'ha già fatto non lo so però ecco senza voler passare la serata a parlare di esposito quello che voglio dire io è un giocatore del 2000 quindi che quest'anno compie se non sbaglio deve ancora compiere 22 anni 22 anni ok sei ancora giovane ma sto parlando di un calciatore al terzo anno di serie B quindi non proprio uno sproveduto non uno mandato nella mischia 7 ottobre 2000 quindi fra 22 anni e ottobre non proprio mandato nella mischia così senza alcun tipo di esperienza da lui ci aspettiamo troppo a sto punto cioè è davvero solo un ragazzo di 21 anni che ha bisogno del suo tempo e del suo spazio oppure alla fine il giocatore è questo qua è un giocatore che davanti alla difesa ti dà un po' di sostanza ti fa il passaggino ti fa qualche apertura quando va bene ti calca una punizione fine evidentemente non siamo solo noi ad aspettarci di più ma anche Nicolato stesso cioè comunque è un giocatore che è nel giro della nazionale del 21 stiamo parlando quindi non so al momento se mi viene a pensare che è un giocatore nel giro della nazionale probabilmente o il livello della nazionale è basso oppure siamo noi che effettivamente ci aspettiamo qualcosa di più da da esposito ma ti aspettiamo qualcosa di più perché obiettivamente quel qualcosa in più cioè non è che ci aspettiamo che risolva le partite da solo e faccia la focca dalla sua area vada a far gol nell'altra ci aspettiamo semplicemente quello che sembrava quello che stava facendo vedere il primo anno di serie B dove ha avuto anche la media la media più alta obiettivamente ha giocato delle buone partite se vi ricordate era anche uno dei giocatori sui quali si puntava anche per una futura rivendita quelli che stavano acquistando valore le aspettative ma anche gli interessamenti in estate di squadre un po' più blagionate esatto cioè non è che ci aspettavamo di più da uno che non aveva mai un giocatore nazionale dice Alberto non ha tutti torni ha ragione ha ragione Alberto però cioè non è che ci aspettavamo qualcosa così ci siamo fumati un canone atomico e diciamo da te oggi ci aspettiamo no sembrava avesse le qualità per fare un certo tipo di prestazioni dopo più passavano le partite più le prestazioni erano mediocre entra Viviani e ti fai il lancio magari illuminante per me d'importa esposito il 90% dei passaggi che fa sono orizzontali ai compagni destra e sinistra cioè è lecito noi comunque come lui il suo lavoro è quello come ha detto come ieri ci ha ricordato anzi mi ha ricordato ieri Davide il suo lavoro è quello di fare il calciatore comunque noi quando ci sediamo in quel banchetto lì al Paolo Maz il nostro compito il nostro lavoro è quello di dare dei giudizi non è che se uno gioca male scrive che gioca male se gioca bene si scrive che gioca bene cioè io questa cosa dei giornalisti che ce l'hanno contro io è una cosa che mi riesco a sopportare non solo per lui un po' per tutti comunque vogliamo parlare sempre solo di esposito però no no infatti c'è anche chi ci ha scritto speriamo che non giochi più così non ne parlate più ma non è questo il punto è che però se vado a vedere adesso non mi ricordo più cioè non ho più controllato dopo un certo punto quanti commenti sono arrivati solo sullo spallino circa il tema esposito credo che siamo oltre i 200 adesso vado a vedere ma sì insomma 204 commenti insomma quindi vuol dire che il il tema attrae un po' un po' di di attenzione io te l'ho detto ora chiudo chiudo io dicendoti solo una cosa che secondo me ieri sera ha sciupato una grande occasione per potersi riavvicinare al tifo alla piazza ai giornalisti in pratica se l'è sciupata ho letto un commento che è venuto e mi ha fatto prendere un punto ho capito però ciò non vuol dire che può venire in conferenza stampa e puntare dita perché poi dopo la prima volta che sbaglia purtroppo fa un po' parte di quella grammatica macista che c'è nel calcio del tipo adesso vi faccio vedere io purtroppo è una cosa che c'è e ogni tanto dobbiamo sopportarne le cose il gol che ha fatto l'abbiamo commentato è stato un gol bellissimo è stato un gran gol è stato un gran gol un gran bel gol solo di esposito post partita però è anche una cosa importante un gran bel gol sotto pressione quindi questo glielo abbiamo riconosciuto ma tutti gli hanno dato dai sei mezzi in su i pagella perché ha fatto lui è nascito benissimo dalla partita a termine di 90 minuti è nascito benissimo fermo restando che se non avessi tirato quella punizione avrebbe preso un 5 clamoroso se non di meno perché fino a quel momento questo perché va sempre parte del gioco e questo va parte del gioco infatti bene allora chiudiamo passiamo a Vincari vai no 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 io un altro no 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 allora scusate una cosa volevo chiudere con un commento allora intanto 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 comunque non ci sono commenti solo di critica per Esposito ma ce ne sono altri supporto questo di Luca dice i tifosi si dimostrano per la prossima volta permalosi e incapaci di riconoscere il giocatore di talento se la prendono con Bicari esaltando un mediocre meccariello Esposito a talento soprattutto 22 anni lo bastonate mentre Mancoso lo esaltate e continuano a sbagliare i rigoli insomma adesso mi sembra un po' una semplificazione questa Luca perché non mi sembra così Gianni ti dice non ricordate le pirlate che avete fatto a 22 anni ah io ne ho fatte assai credo che anche gli altri le abbiano fatte ma non è questo il punto Gianni io ho 24 anni cioè ne mostro molti di più però ne ho 24 esatto mi avevi 22 solo due anni fa però eravamo in lockdown e quindi non hai potuto fare delle pirlate non ho fatto pirlate solo pizze esatto solo pizze allora non è tanto il fatto di avere 22 anni di averne 19 di averne 34 perché anche quelli di 34 si comportano da stupidi a volte il problema è che c'è un tempo e un modo per esprimere le cose e l'abbiamo detto fino adesso vabbè detto questo il titoletto che ho messo è eccessi d'ansia perché perché oggettivamente ieri sera se ne hai vista parecchia di ansia di varie nature perché qualcuno ha già tirato in ballo Mancosu Mancosu rischia di essere uno dei più grandi enigmi di questa stagione perché se avesse segnato quel rigore dopo un minuto e 40 secondi probabilmente Cosenza non dico che sarebbe messa via ma avrebbe dovuto fare una partita completamente diversa e magari si sarebbe riuscito a portare a casa il risultato pieno ma Mancosu che ci viene veniamo riprograti di esaltare spesso fermo restando che se volete vado a vedere la sua media voto e penso sia un po' diversa da quella di Esquo guardo le patelle orla di ieri date dalla Spallino a Mancosu Mancosu si è preso un 5 quindi non è che si è portato a casa un 6 e mezzo solo perché si chiama Mancosu ha fatto bene in altre partite quindi va beh ma si ma dopo si creano queste cose che non stanno nei piedi nei cieli intera comunque Mancosu è rimasto vittima della stessa ansia fermo restando che la sensazione dalla tribuna stampa è che non stesse per niente bene ma al di là di questo cosa affligge questa squadra ce lo stiamo chiedendo per la trentaduesima volta ma cosa affligge questa squadra perché è possibile davvero farsi mettere non dico in scacco da un cosenza oggettivamente modesto ma complicarsi così tanto la vita da soli una domanda non da cento da mille punti cioè cosa affligge ci vorrebbe lo psicologo di Barbieri però abbiano no perché a sto punto non può che essere non può essere che qualcosa a livello mentale tu qua scrivi eccessi d'ansia quindi non so se effettivamente sia il pensare il pensare alla classifica il pensare alla situazione al momento che appunto li freni però sinceramente non so neanche se sia lì il punto non lo so sinceramente guarda sono curioso anche di sentire le vostre opinioni perché in merito non mi riuscirei a dare una risposta io un'idea me la sono fatta e l'ho come dire maturata esatto l'ho confermata ieri mentre guardavo la partita fortunatamente da casa e non allo stadio ossia siamo veramente sicuri al di là di quello che dice Tacco Pena che questa squadra è da playoff che questa squadra sia veramente tanto più forte più di quello che dovrebbe perché secondo me lo dico anche alla luce della partita tra Vicenza e Crotone che ho appena visto adesso se queste squadre e come ho detto in trasmissione di cosenza il giorno prima della partita se queste squadre occupano la posizione di classifica che hanno in questo momento non dopo cinque giornate sei giornate che può esserci l'infortunio il momento la preparazione e quant'altro se le squadre si trovano lì un motivo c'è il motivo secondo me arrivati a questo punto del campionato che siamo ormai quasi alla linea del traguardo è che le squadre valgono quella posizione lì cioè secondo me per carità Mancoso ha sbagliato ok Leo però Mancoso ha sbagliato ha sbagliato il rigore capita quanto abbiamo visto che sbagliano il rigore ha sbagliato anche Baggio cioè voglio dire sbagliare i rigori ci può stare come farli ma non è questo il punto poi la spalla ha avuto 89 minuti 90 forse considerato il recupero in 92 per fare comunque fare gol e non l'ha fatto perché il valore della squadra è quello è quello lì perché la riporta più che altro perché io ho disegnato il loro portiere ha fatto benissimo fino alla tre quarti come sempre ormai sembriamo dei dischi rotti che lo dicono e poi arrivi lì alla tre quarti e manca quel qualcosa che fa la differenza tra chi vince e chi perde o chi pareggia come una squadra secondo me non è questione di ansia sì per carità c'è ansia perché ormai sei lì e hai anche le altre dietro che giocano oggi tra l'altro hanno nessuno fa punti lì sotto però non lo sapevi ieri sera se oggi il Vicenza avessi vinto secondo me più che ansia secondo me è il livello di questa squadra che non è quello che noi ci aspettiamo quello sì ma cioè allora se uno va a guardare i singoli Leo e confronta la rosa della Spal con quella dell'Alessandria o con quella anche del Como o anche del Perugia non ti viene da dire questi sono più scarsi quindi ci deve essere qualcos'altro e allora però il primo anno di serie B l'abbiamo visto che è successo con una squadra fatta per carità con degli elementi buoni ma c'erano altre cose dentro c'era è stato un allenatore è stato un allenatore è stato un allenatore vabbè lascia stare allora secondo me la Spal 6-17 non può essere un campione plausibile per fare l'esempio estremo quella no ma quella veniva da una fase ascendente questa arriva da una parabola discendente quindi sono due contesti diversi ma al di là di quello c'è un elemento che c'era in quel periodo storico e che non c'è adesso secondo me anzi sono due uno l'assortimento forse questa squadra è assortita male perché per esempio di due terzini sinistri non ce n'è uno che ti dia delle garanzie di terzino destro buono ne hai uno e quell'altro vediamo sabato come va a metà campo non hai una gerarchia precisa perché cambiano sempre gli interpreti in attacco non c'è una gerarchia precisa perché cambiano sempre gli interpreti quindi mi viene da pensare che ci sia un assortimento che non sia così congeniale diciamo così né le idee che erano in origine di Clotet né quelle di Venturato la seconda cosa è quella che in alcuni casi può essere chiamata cultura organizzativa che può essere chiamato senso di appartenenza chiamalo come vuoi ma quell'idea di essere in un luogo per una ragione di identificarsi con quel luogo con quella squadra è di trascinare e farsi trascinare dal pubblico cosa che le spalle del quadriennio d'oro avevano tutte quello mi sembra mancare perché poi dall'interno ti dico a tutti ma è un bel gruppo sono affiatati sono tranquilli sono sereni lavorano bene ci allenano alla grande però dopo vanno in campo e vedi cose cioè tipo giocatori che si sfanculano uno con l'altro se uno gli dà la palla messa male se uno sbaglia in difesa perché l'abbiamo visto scusami Orlo se ti interrompo ma ieri prima della punizione di Esposito c'è stato un battibecco tra lui e Mancoso per battere una punizione cioè si sono litigati un pallone non so se te ne sei accorto sì 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 quindi cioè questo è lampante un esempio lampante di quello che stai dicendo adesso appunto manca quell'unità quell'unità da quel punto di vista lì secondo me appunto e poi manca l'entusiasmo in generale cioè comunque ma anche adesso non so voi però io stesso come ha detto i lavori nell'ultima partita non vedevo loro andare a casa cioè capisci poi ok che è il frutto poi di tutto quello che ci portiamo dietro però quell'unità tifoseria società e squadra di cui tanto si vantava Mattioli negli anni precedenti al momento io penso che se Taccopina debba ricostruire debba ripartire da lì cioè deve picchiare forte ed è un tasto sul cui lui ovviamente non manca come come modo di muoversi perché comunque è una persona che ha entusiasmo però bisogna ricostruire quel legame quel legame lì bisogna ricostruire secondo me poi c'era una frase di Mora quando è tornato sulla felicità e sul fatto di vincere era non eravamo felici perché vincevamo ma vincevamo perché eravamo felici una cosa del genere già lì e ti dà un po' la dimensione di quello che è poi possono essere può essere un gruppo che si applica un gruppo che è però quella spalla vinceva perché comunque anche fuori dal campo non basta essere presenti quelle due ore al centro ma comunque fare gruppo fare famiglia vedo gli stessi Coste e Antenucci adesso che ci fanno i complimenti da voi nei vostri post mi piace di Cremonesi di Arini comunque si era creato proprio un tessuto di Silvestri si era creato un qualcosa di unico e tutti hanno fatto la loro parte un granellino ognuno ha messo il proprio granellino e ha spinto la squadra ma purtroppo manca non dico che ci sia disaffezione però comunque manca anche quella volontà di remare tutti dalla stessa parte secondo me e forse adesso anche stimolato un po' da quello che avete detto il vero pulcro è quello lì della questione comunque non c'è non c'è quell'attaccamento quella voglia comunque di andare in campo quei 90 minuti gli altri ieri sera il Cosenza non erano fenomeni però comunque a me ha colpito dal momento in cui non riesci tecnicamente a dire la tua cerchi di sopperire quella mancanza fisicamente o comunque con la grinta cioè una squadra che finisce ok che vabbè l'espulsione è stata stupida però comunque la squadra che la mette sul fisico in 10 quelli stavano per portare a casa la partita è la stessa cosa di portare stasera ho visto dei commenti Davide qui nella nostra stanno arrivando veramente tantissimi oggi di commenti infatti facciamo fatica a starci dietro stasera non riesco a stare già dietro esatto a leggerli però quantomeno non sono in arabo stavolta qui parlavano ho visto qualcuno che parlava della mancanza di leadership volevo dirlo anch'io perché l'ambiente dello spognatorio si costruisce anche sulla base di giocatori che sono carismatici che portano che tengono la barra dritta quando le cose vanno male questa spalla non è che ne ha tanti e poi secondo me ragazzi manca un progetto tecnico serio cioè comunque negli ultimi due anni tre anni abbiamo cambiato sette allenatori abbiamo cambiato se ci pensate comunque un gruppo che è stato rivoluzionato perché anche quello però già quest'anno siamo passati da un allenatore a un altro con due tipi di calcio totalmente differenti è come stare per loro immagino che sia come stare dentro un frullatore e comunque riadattarsi a caratteristiche che secondo me sono non dico gli antipodi ma comunque sono abbastanza differenti tra di loro e quindi quello ovviamente non fa la mancanza di progettualità comunque secondo me bisogna avere alla base una società forte che abbia un progetto tecnico serio che si sappia quello che si vuole fare perché se guardiamo quest'anno la linea era quella di tenere i giovani poi arriviamo a gennaio boom sec via cominciano a vendere anche il settore giovanile cominciano a vendere il messaggio che due è alla prima squadra perché comunque leggo non abbiamo la riprova che i giocatori leggono quello che dicono ovviamente sono quei volte leggono ascoltano tutto possono dirti quello che vogliono esatto dentro l'ambiente si guardano anche dello spogliatoio e dicono ma sotto che progetto c'è non c'è secondo me i sette allenatori cambiati sono l'esempio lampante di questa mancanza di progetto è vero quello che dici però se prendiamo il commento di Sergio Tabacchi non ce ne ho gli chiali perché non riesco a leggere bene dice tutto vero quello che dici gli allenatori il progetto tecnico però ragazzi quasi 30 minuti in 11 contro 10 ne si interi importa no ma e poi torniamo al discorso tuo Leo di inizio effettivamente abbiamo dato troppe qualità in estate a questa SPAR che in realtà poi non sono state riscontrate sul campo effettivamente sono quelli che meritano questa posizione di classifica qui è difficile come cosa secondo me è un insieme di concauge ma come al solito ovviamente non c'è mai una spiegazione univoca ma è sempre un intreccio complesso di questioni non sempre poi tra l'altro collegate tra di loro Daniele ci induce anzi ci esorta a dire qualcosa su Zamuner io torno a dire quello che ho detto una settimana fa però la squadra non è una amica fatta solo Zamuner c'è anche Tarantino nell'ufficio della direzione tecnica perché qua sembra sempre che il Pirla sia Zamuner ma se ci sono dei Pirla sono due fermo restando che io non credo che siano dei Pirla né Tarantino né Zamuner ma che abbiano operato in un certo tipo di contesto vabbè l'ho detto la settimana scorsa non sto qui a fare tutto il pippo un'altra volta certo è che qualche errore di valutazione c'è stato questo non credo sia un problema a dirlo e non credo neanche abbia problemi a riconoscerlo la coppia Tarantino Zamuner poi qui bisognerà capire quanto bene o quanto male finirà questa stagione perché prima di parlare di Venturato c'è un commento che ha tirato la mia attenzione Federico fa un commento molto lungo però scrive la spalla di quest'anno non si salva sono le altre che retrocedono chiuderemo verosimilmente con 37-38 punti che vuol dire che in una serie B normale saremo ampiamente a retrocessi questa rosa è scarsissima per cui l'anno prossimo anziché Milano bisogna pensare che servono 4-5 titolari per fare i 45-46 punti che sono sempre serviti per una salvezza tranquilla e soprattutto un mister diverso da sventurato vabbè all'idea di quest'ultima chiosa che non mi trovo del tutto d'accordo ma lo dicevo l'altro giorno ad Alberto Benazzi di Radio Dolce Vita commentando la situazione che il rischio dopo una serata del genere è veramente quello di salvarsi per demeriti altrui e non è la stessa cosa che salvarsi bene tranquillamente o comunque con un certo tipo di finale anche di stagione che magari vinci tre partiti e dici vabbè un po' a posto siamo tranquilli non è più niente cioè ci stiamo trascinando verso la salvezza e questo alimenta un clima da piazza pulita che abbiamo visto esattamente un anno fa perché l'anno scorso i tifosi andavano in via coppare e dissero toglietevi dalle palle perché avete ampiamente esaurito il nostro credito molti di quelli che c'erano in quella squadra se ne sono andati alcuni sono rimasti è stato fatto un ampio rinnovamento però mi sembra che il problema si stia ripresentando sotto un altro punto di vista l'anno scorso era il mancato raggiungimento di playoff e quest'anno è il raggiungimento di una salvezza che viene presa per i capelli però con una quota punti che come ha sottolineato Federico in qualunque altro campionato avrebbe condannato questa squadra alla retrocessione non solo però c'era anche un'altra c'era anche un'altra un altro aspetto secondo me che l'anno scorso quello che veniva rimproverato l'anno scorso alla squadra era che non avessero voglia di giocare che si sentissero giocatori di serie A pagare un anno di impegno in serie B per poi tornare su tanto che gli si chiedeva non tanto di vincere ma quantomeno di impegnarsi cose che l'anno scorso poche 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 volte abbiamo visto quest'anno invece l'impegno secondo il mio punto di vista è innegabile ma ricadiamo se non voglio ripetermi non lo farò ricadiamo secondo me sempre sulla questione tecnica cioè su una squadra che ha delle lacune tecniche che non sono state colmate a gennaio o non sono state colmate a dovere pertanto ha continuato ad andare su quel copione lì poi il fatto che la SPAL possa raggiungere la salvezza non per merito proprio ma per demerito degli altri penso che ormai sia andato di fatto la SPAL ieri ha fatto una partita che doveva vincere ma l'ha avuto la definita imbarazzante e Mauro ne hai viste due e tre ecco per carità Mauro non abbiamo solo che da imparare da Mauro però era evidente a tutti che la SPAL avesse giocato una partita imbarazzante eppure ci troviamo oggi alle 10 del 6 aprile a dire che tutto sommato abbiamo guadagnato un punto e questo va bene che per carità va bene cioè se domani la SPAL fosse salva aritmeticamente saremo tutti contenti però io ho la sensazione che diceva Davide prima ossia che quando si va allo stadio non vedo l'ora di tornare a casa è una cosa che io quasi mai ho provato allo stadio e giusto oggi pranto stavo commentando con le persone in cui stavo mangiando dicendo che io non vedo l'ora che finisca questo campionato perché è un campionato che ci stiamo trascinando ci stiamo trascinando verso le partite finali in maniera stanca cioè giusto per arrivare all'obiettivo minimo che inizio anno insomma un po' per la colpa di più persone pensavamo che non fosse neanche in discussione io vi lancio una provocazione che poi alla fine tanto provocazione non è perché è in realtà no che si arriverà come penso che arriverà questa salvezza arriverà per meriti di Clotet c'è una salvezza di Clotet questa andiamo a vedere gli scontri diretti i punti fatti che ci hanno permesso di mettere dietro le altre arrivano dagli scontri diretti vinti da Clotet perché avventurato poi io non sono sono un garantista diciamo quindi secondo me è arrivato in un momento che sappiamo tutti qual era non ci sto a ritornare su è ovvio che il vero corso di Tacopino inizierà in estate secondo me la prova del 9 sarà quella uno con la disponibilità economica che metterà sul piatto lui e secondo appunto con la possibilità di venturato di dire la sua al tavolo è vero che gli acquisti che gli hanno fatto a gennaio comunque sono stati condivisi però magari ci sarà più tranquillità per poter progettare una stagione che sia io non chiedo molto non chiedo la serie A però un po' più entusiasmante di questo Tacopino la chiede però attenzione è lì è lì dopo apriamo io orlo ogni volta che vengo qua mi mi tocca parlare di Tacopino e delle sue parole non ci vengo più non ci vengo no 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 aspetta però scusa tu puoi anche partire quest'estate e dire avventurato oh mister ti metti una squadra partiamo un po' a fari spenti vediamo cosa succede ma se arriva il gioco Tacopino e dici no 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 dai playoff in su se no io non sono felice e cominci a mettere un carico sulla squadra che oggettivamente è ingiustificato a meno che non comprino l'amantia e altri io te l'ho detto tutto tutto passa da luglio allora va bene allora va bene cioè quando si siederanno quando si ritroveranno inizierà il ritiro e lì poi effettivamente si capirà la potenza di fuoco di questa spalla logico che se cominciano ad arrivare quelle 4-5 pedine che anche noi vediamo essere importanti uno la bocca buona comincia a farsela però tutto passa da lì secondo me allora aggiungo un po' di pepe aggiungo un po' di pepe e oggi sulla ancora di più pagina facebook dello spallino abbiamo condiviso un post di Enrico Testa sì e c'è una frase che vi propongo e vi chiedo di commentare e dice oggi abbiamo la certezza che per vincere a parte che non hanno vinto però che per vincere sulla panchina del Cittadella non ci vuole uno scienziato allora allora è lecito pensarlo perché abbiamo detto un mucchio di volte che a Cittadella è stata creata una metodologia e una cultura quella di cui parlavo prima una cultura societaria che probabilmente permette di andare avanti a prescindere dall'allenatore fermo restando che Roberto Venturato con il suo lavoro ha contribuito sensibilmente a mantenere questa cultura che già esisteva prima di lui perché era stata creata ancora prima con Foscarini al netto poi della retrocessione in SLC ma ha contribuito a rimberdirla e a mantenerla e anzi a portarla a livelli inesplorati perché ricordiamo che ha fatto due finali playoff in tre anni c'è un commento della spalla di un video Venturato prende giovani che corrono poca figa che se la tira e poi Venturato fa la buona squadra con pochi soldi e questo è il vantaggio questo è ciò che è successo a Cittadella ma questo non è ancora successo a Ferrara perché il motivo per il quale Venturato è arrivato a gennaio è proprio perché aveva la fama di essere uno che prende anche gruppi non così debordanti di talento o disfunzionali li mette in ordine e li porta risultati sopra le aspettative questo non è successo perché la media punti in questo momento è paragonabile a quella di Clotet nel senso che c'è uno 0-20 di differenza che però su una base di tre ovviamente fa un po' fa un po' margine comunque Venturato oggettivamente finora deluso e e il fatto che non sia un fuoriclasse della comunicazione non aiuta nemmeno a capire perché perché oggettivamente ogni volta ci dobbiamo mettere più grinta e dobbiamo avere identità e dobbiamo essere concentrati bisogna volerlo e ok grazie c'è una frase che mi lascia sempre un crucio è non ho detto vincere ma provare a vincere in una conferenza come Francesco Colomarini quando diceva che non era detto che non era necessario rimanere in Serie A però qua ci stiamo giocando qualcosa di importante comunque cioè sì no ma Venturato tirato fuori da Cittadella in questo momento probabilmente si è ritrovato catapultato in un mondo che è un po' troppo disfunzionale rispetto a quello che conosceva prima e quindi anche la discontinuità perché comunque di buone partite con Venturato ne abbiamo viste come ne abbiamo viste con Crotet però per esempio Alessandria stessa non è mica stata una brutta prestazione di per sé però se dopo dietro fai delle broccate pazzesche o Colombo non fa almeno il 50% delle occasioni che ha che caspita vuoi fare a me preoccupa quella di ieri sera perché qualcuno ha detto non è facile se hai 9 giocatori di movimento davanti alla porta a trovare spazi ho capito però cioè in Cosenza era la squadra che aveva vabbè di meno da perdere ieri sera però era anche quella che doveva prendersi più rischi e la spalla non è riuscita praticamente mai a fargli male a parte che sul gol di Dickman quindi c'è qualcosa che non quadra e davvero è difficile capire cosa per quello che viene detto tu sul fatto che c'è stato tempestivamente in maniera burrascosa burrascosa scatapultato in questa nuova realtà è proprio per questo motivo che lo dico aspetterei l'estate e i primi mesi della prossima stagione per capire se effettivamente questo percorso di ambientamento che come hanno bisogno i giocatori di fare anche il nonatore deve fare potrà arrivare a compimento quindi secondo me appunto lo snodo per tutto il progetto tecnico di Taccopina è questo stato secondo me scusa devo rispondere a Luca che diceva vinceva 2-1 cosa doveva rischiare no ma non intendevo sul 2-1 Luca cioè il Cosenza comunque doveva prendersi dei rischi quando era sullo 0-0 e quindi si sarebbe dovuto un po' sbilanciare se avesse voluto vincere questa partita e invece si è trovato in vantaggio perché il Goglia ha fatto la spalla su quel calcio d'angolo in cui chi doveva marcare non ha marcato quindi è quello che sottolineavo poi è chiaro ripeto l'ha detto anche Guardiola ieri sera se una squadra si difende 5-5 dietro in 30 metri di campo tu puoi avere tutto il talento del mondo non gli fai gol o se glielo fai perché sei eccezionalmente bravo non dico di no però voglio dire arrivi a questa partita sulla quale è stata messa un'enfasi pazzesca sulla quale il Venturato ha detto è la più importante del finale di stagione e la approcci così qualcosa non va e soprattutto comunque posso dire di essere deluso dai 20 minuti finire della spalla al netto del gol di Esposito perché se non avessi segnato lui su punizione non avresti fatto un tiro in porta allora capisco che è dura attaccare contro una squadra super rinchiusa però almeno fammi vedere qualcosa non abbiamo visto assolutamente nulla in quei 24 minuti e quello secondo me è l'aspetto davvero inquietante hai ragione sì nel frattempo ci chiedono Peda dove è finito non so esattamente dove è finito era in panchina ieri sera era tra quelli che ha esultato ieri sera ed è stato anche come dire va bene lasciamo perdere stavo cercando un'espressione la clip video nella quale l'Atelat fa il burlone e lo tocca nelle parti intime comunque è stato battezzato è stato l'ultima spalla convincente è stata quella di Mario del giorno d'andata lo scorso anno è buona ma guarda Andrea quella di Clotet ha avuto i suoi momenti comunque però era una squadra molto fragile molto anche lunatica se vogliamo come era un po' lunatico l'uomo perché a volte lo trova in buona a volte no comunque al di là di questo senza fare il processo io veramente mi volevo chiedere a voi che eravate allo stadio quantomeno cosa è successo con Vicarin perché sui social si scrive una cosa in velocità giusto per no no non salutare però io non l'ho visto io non l'ho visto niente dite il vostro punto di vista l'unica cosa allora che ho sentito è dopo il gol ogni pallone toccato arrivano fischi fischi come se fosse l'ex di partita come se fosse l'ex che tocca il pallone come Donnarumma Milano con l'Italia stessa cosa e da quello che mi hanno detto persone che erano in gradinata però se non è confermato non lo so dicono che abbia risposto alla gradinata per qualche frase qualche roba che è arrivata però su questo non ho avuto non ho avuto conferme conferme solo voci che mi hanno riportato la questione di Vicari è delicata perché è un giocatore che innegabilmente ha contribuito a a fare della SPAL ciò che ciò che è stato negli ultimi anni un tifoso della gradinata ha preso a porcate a Vicari dice Luca non credo solo uno in gradinata credo che più di qualcuno tra gradinata curva e tribuna abbia detto delle cose a Vicari parto dal presupposto che la riconoscenza e il giudizio del presente sono due cose che viaggiano su due binari diversi era come quando si diceva non puoi criticare i colombarini perché hanno fatto tutto questo no aspetta un attimo se io voglio criticare i colombarini nel merito per delle scelte posso farlo fermo restando che gli sono riconoscente per tutto ciò che hanno fatto prima è lo stesso tipo di approccio che si deve avere con Vicari cioè ci siamo riconoscenti per tutto quello che ha dato alla SPAL ma mi sembra abbastanza palese che il suo tempo qui si sia esaurito non perché lui sia un professionista sotto la media perché sia una brutta persona perché sia uno che non si impegna niente di tutto questo ma perché semplicemente mi sembra che questo questo legame sia arrivato alle battute finali per ragioni che non sono neanche date a sapere ma si vede proprio cioè si percepisce proprio e voglio sottolineare il fatto che tutte le persone con cui capita di parlare di Vicari che frequentano l'ambiente SPAL non mancano mai di sottolineare quanto lui ci tenga ha il suo ruolo di capitano alla SPAL stessa ricordo quando fece quell'autogol col Milan due anni fa mi raccontarono che ci impiegò due giorni a riprendersi Leo ti ricordi che ce lo disse anche Felipe quando è venuto in diretta da noi l'anno scorso che forse il tenerci troppo a volte è anche un problema per lui perché è come un macigno che lui si carica sulle spalle e fatica un po' magari a portarselo appresso qui non deve essere per niente facile se fai un errore grave come quello che ha fatto in occasione del secondo gol e lo stadio comincia a insolentirti in quel modo quando peraltro sei il capitano quando peraltro hai giocato quasi 200 partite per la SPAL non è una situazione facile per niente quindi non mi sento né di lanciargli la pietra addosso né di assolverlo completamente dico solo che si è creata una situazione veramente antipatica antipatica per il pubblico antipatica per Vicari nel frattempo c'è un commento di Buzzo con il quale mi trova assolutamente d'accordo e non lo trovo più comunque in buona sostanza diceva che sono le 22 in quarto ormai stai diventando come l'isola dei famosi effettivamente dopo dobbiamo fare la notturna sono successe troppe cose nell'ultima settimana e quindi non so se c'è qualche altro commento che vuoi stavo leggendo lo stavo leggendo batti biega con i tifosi l'unico che ti importa nel secondo tempo è stato Dickman un difensore infatti sullo spalino abbiamo scritto che è stato lui l'attaccante principale della spal e se il tuo attaccante principale è il terzino destro qualche problemino c'è e qui ci andiamo a ricondurre sul tema gioco non gioco avventurato non avventurato il capitano Vic ha dato esempio sfanculare i tifosi l'ho esposito prendere l'esempio ma non è così voleva andare via inizio stagione non le pagano le conseguenze questo è vero però questo mi risulta che lui preferisse cambiare aria però non sono arrivate offerte è anche controensibile quindi esatto stavo per dirlo io uno può anche vogliere cambiare aria però ha dato più la spazicare o viceversa credo che abbiano dato entrambi l'uno per l'altro insomma ripeto io credo che lui si sia sempre impegnato al massimo delle sue possibilità ma se vive un momento di difficoltà o una fase nella quale non è più così felice di rimanere a Ferrara bisogna trovare una soluzione tanto Max parla anche di Tripaldelli che non ha zecata una però qua apriremo un altro un altro vaso di Pandora che non rischiamo di andare avanti fino alle 11 io dico io dico di stare attenti abbiamo già avuto abbiamo già avuto esperienze anche noi anche noi abbiamo avuto no lo so lo so Davide mi ricordo mi ricordo Vicar riportato le squadre delle ultime stagioni si è frizzato con questa faccia vedi il potere di Tripaldelli ti ha ti ha frezzato esatto vabbè allora Leo io non so neanche se non so neanche se fare il giochino stupido che facciamo di solito con la polli no perché manca la polli quindi l'abbiamo fatto anche altre volte che mancava la polli quindi cioè era un ottimo scuso per non farlo stavolta anche perché punti non ne stiamo facendo tu avevi pronosticato Mancosu protagonista di questa partita in qualche modo se avessi detto negativo Mancosu ci avrei preso invece tu l'hai pronosticato eroe in positivo quindi no mi dispiace non ho fatto di meglio io perché ho detto da riva e la polli ha fatto peggio di tutti perché ha detto Finotto che è entrato e sembrava rendoci da un rapimento alieno povero Mattia ha giocato Finotto dai tabellini si dice di sì quindi Leo non so se vuoi dirmi chi sarà il grande protagonista a Lecce in positivo in negativo io segno tutto e poi vediamo se la polli dice qualcosa indifferita Pinato mamma mia in positivo Pinato più ok va bene adesso lo segno subito non so se la polli dirà Colombo come fa al solito che da quando ho cominciato te lo dico io volevo dirlo io quando me l'avete chiesto partecipo anch'io vi dico Colombo no no ma eri eri in coda eri in coda eri in coda allora per me Colombo per me Colombo io ti dico Alfonso le prende tutte sabato le prende tutte si strappa il pareggione o addirittura la vittoria al Via del Male e la polli non credo risponderà perché o è a letto o è a bere quindi è già a letto da due ore a quest'ora una delle due Mauro vuole assolutamente sapere secondo lui chi deve rimanere alla SPAL ce l'aveva chiesto anche prima in realtà mentre sfondiamo i 60 minuti di diretta aspetta facciamo così i tre nomi dai quali bisogna assolutamente ripartire la prossima stagione per tutti e tre poi chiudiamo che domanda riduce 20 esatto ma stiamo scherzando ti dico i miei allora sì vabbè ti dico Dicma che mi sta piacendo molto l'ho criticato molto nel giorno d'altro ma mi ha ancora una volta smettito è cresciuto molto mi piace direi poi non è facile però aspetta Dicma sicuro un secondo nome secondo me è sottovalutato Peda che è giocatore che può crescere molto e che può essere valorizzato e il terzo Mancosu perché è vero che andrà per i 34 erotti però secondo me è un giocatore ancora di grande livello per questa categoria ed è uno dei leader che reclamiamo anche se non lo sembra io ho al netto di rinnovi non rinnovi io dico quelli secondo me su cui bisogna puntare Meccariello Viviani e Mancosu è quella la spina dorsale secondo me su cui costruire la spalla io ho segnato se voi lo spallino dice Mirko ciao Mirko ma sì in teoria dovremmo rimanere a meno che il nostro editore non si stufi di noi ma dopo per un anno lo troverei bizzarro va bene vai Leo Meccariello Dicman Venturato tanti dicono Viviani aggiungendo Zio Pork faccio un inciso Viviani ragazzi ma prende quanto se spalma l'ingaggio perché se deve prendere ancora quello di quest'anno per i conti ma dopo un anno come questo ma perché Viviani deve rimanere a Ferrara se ha una pretendente a prenderlo che gli può garantire magari di allungare il contratto però magari dopo un anno come questo qualcuno ha disposto a tenere fuori qualche soldino in più mettiamola così se rimane bene per la spal ovviamente un po' meno per le casse della spal se se ne va bene per le casse della spal va bene è win-win sempre ho chiesto una sospensione per gesti come mica e no Luca non sono d'accordo perché sono parte del mestiere Murgia Capradossi però deve essere riscattato il costo capitale non so se la spal ce la farà Murgia sarà un pilastro dell'anno prossimo un pilastro inteso proprio abbiamo già parlato e rinviamo la questione al 20 di maggio per favore va bene va bene allora siamo andati fin troppo per le lunghe ma stasera c'era veramente una marea di roba di cui parlare mi dispiace che abbiamo letto non tanti commenti rispetto ai nostri standard grazie vero a tutti quelli che hanno commentato se siete tantissimi 248 commenti infatti è una roba quasi ingestibile e invece devo farlo io mentre cerco di parlare senza dire delle cazzate quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito che hanno commentato che sono sempre così numerosi e magnanimi con noi e grazie Davide che sei stato con noi grazie grazie davvero ciao a tutti grazie a chi ci seguirà in differita sia su facebook che su youtube ah un avviso veloce perché c'è ancora la newsletter di aprile dello spallino uscirà un pochino in ritardo rispetto alla norma perché sto preparando una cosina un po' diversa dal solito diciamo così quindi ci impiegherò un po' di più a farla ma uscirà tipo il 12 probabilmente invece che del 10 fine del comunicato grazie a tutti di nuovo e buonanotte alla prossima buonanotte ciao a tutti ciao ciao